e questo tipo di costruzione assolutamente no chi sta ca' è il 1948 io dico c'è grotta interna secondo te poter essere abitata perché ca' c'era l'acqua Gregorio abitata sono archeologica sono archeologica che stai parlando questi mila anni fa non è che stiamo parlando lì ora è lì direi un po' più vecchia è l'espero, è l'espero, è l'espero, è l'espero, parliamo di 2000 anni fa il video che sto facendo grazie